Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Rotazione bacino. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti del bacino semplici. Esegui il movimento lentamente e contrai gli addominali per evitare problemi. Fai attenzione a non sollevare le spalle dal pavimento durante l'esercizio. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Prossimo esercizio. Sollevamento cosce più piegamento gambe. Via! Fai attenzione a non sollevare mai il bacino da terra durante il movimento. Esegui il movimento lentamente per evitare problemi alla schiena. Non sollevare la testa. Il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Slanci posteriori pulsati, gamba a 90 gradi. Via! Se non ce la fai, invece di molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Prossimo esercizio. Slanci posteriori i carponi a 90 gradi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Prossimo esercizio. Slanci laterali su fianco, gamba a 90 gradi. Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non muovere la schiena. Per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa. Guarda un punto fisso davanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! No piegare la testa. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Grazie a tutti